Cinzella Festival, un grosso evento che si divide in due momenti, il momento cinematografico, l'11, il 12 e il 13 di agosto presso il castello aragonese di Taranto e poi il 17, 18 e 19 presso le cave di Fantiano in quella di Grottaglie per quel che concerne l'aspetto, appunto, il momento musicale. Ho al mio fianco Mimmo Battista, uno degli organizzatori, tanta fatica, tanto impegno, state sudando le fatidiche sette camicie, anzi no, fatidiche sette magliette come Cinzella Festival si vede nel logo, il disegno. Ecco, un po' come sta andando l'organizzazione, duro lavoro però il prodotto sarà certamente di elevata qualità. Sì, questa è la terza edizione del Cinzella Festival, è un'idea nata tre anni fa sulla scorta appunto di una quasi visione di Michele Riondino, che è il nostro direttore artistico, che si era messo in testa di portare a Taranto, di organizzare a Taranto, comunque nei dintorni di Taranto, nella provincia di Taranto, un evento di portata internazionale. Questo festival è cresciuto nel corso del tempo, tanto da essere ormai riconosciuto in ambito italiano, e lo testimoniano tantissime riviste specializzate come Vogue Italia o tantissime altre, insomma, che lo collocano tra gli eventi imperdibili dell'estate. Quindi, come dicevi tu, ha due parti, due fasi, che si dividono in questa maniera, 11, 12, 13, presso il Castello Aragonese e Cinzella Immagini, perché ricordo che questo è un evento tra gli altri supportato da Apulia Film Commission, che l'ha inserito nell'ambito dei festival riconosciuti nel proprio circuito, e dal 17 al 20, presso le cave di Fantiano di Grottaglie, abbiamo la parte musicale. Poi, entrando nello specifico, ovviamente gli eventi sono tantissimi, mi piace ricordare, tra gli altri, la performance live di Teo Teardo, sul film Le Reture a la Raison, avremo dall'Inghilterra Mike Christie, regista di New Order Decadies, e poi il 12, un evento veramente imperdibile, perché proietteremo il film Good Vibration, che narra la storia di questo, anche lui visionario, personaggio nato a Belfast, Terry Hulley, che verrà appositamente da Belfast, ed è che ha creato appunto questo locale, che era sede della musica punk di Belfast, dove ai tempi dell'ira, quindi ai tempi delle lotte tra cattolici e protestanti, quando questi si ammazzavano, lui li accoglieva nel proprio locale, cercando di far riporre le bandiere reciproche, quindi creando questo momento di unione, quindi lo avremo anche con il suo DJ7, una persona di 70 anni che ha accettato volentieri, ed è veramente entusiasta di conoscere Taranto. E poi concluderemo il 13 agosto con la proiezione di Noi Siamo After Hours, con la presenza di Giorgio Tessi, che è il regista, verrà anche lui da Londra, e la presenza di Rodrigo D'Erasmo, che ci racconteranno questa storia incredibile, il filaforum di Assago del concerto degli After Hours, che è soltanto il prologo di quello che vedremo poi dal vivo, come unica data al sud, giorno 19 agosto, alle cave di Fantiano. Cinzella Festival, un evento che vedrà protagonista il castello aragonese di Taranto, per la parte cinematografica, l'11, il 12 e il 13 di agosto, mentre per la parte musicale, 17, 18, 19 e 20, presso appunto le cave di Fantiano in quelle di Grottaglie. Ho al mio fianco Mimmo Battista, abbiamo precedentemente in un'altra intervista così considerato gli aspetti, i propri momenti cinematografici e musicali, ora però io non posso esimermi da fare alcune domande che giustamente mi vengono spontanee. Intanto ben venga bellissima la location del castello aragonese, perché il castello aragonese insieme al Ponte Girevole è il luogo, simbolo rappresentativo di Taranto, invece per quanto riguarda gli aspetti, il momento musicale, avete optato per Grottaglie. Domanda, perché Grottaglie e non Taranto? Ma ci è venuto semplice, mi preme ricordarti quali sono gli eventi musicali per farti capire anche... Diciamoli, perché meglio sabundare quando è ficcere. Benissimo, quando parli in latino è fantastico. No, no, diciamolo. Quindi avremo il 17, avremo in esclusiva nazionale i Battles, che vengono dall'estero appositamente per questa data, abbiamo gli 8 My Village e avremo un 17 di livello internazionale con i digitalismi che vengono da Hamburgo. Il 18 avremo una combo incredibile con l'unica data in Italia dei Marlene Consi che preparano i due set, quello elettrico e quello acustico, quello acustico in particolare al tramonto, insieme ai White Lice, l'unica data al sud. Il 19 come unica data al sud avremo il concerto degli After Hours e il 20 il grande finale con i Franz Ferdinand che vengono per la prima volta al sud. Abbiamo venduto già migliaia di biglietti, anzi consiglio di affrettarvi perché annunceremo molto presto il soldato. Quindi capisci bene che per organizzare un evento così importante ci vogliono davvero degli standard organizzativi che non devono disdegnare, non dribbo la domanda, anzi tu mi... Ti invito a nozze, ti mando un assist per andare in gol. Assolutamente, è molto semplice. Ti dico quello che avviene in maniera molto semplice. Noi quando parliamo del Cinzella Festival all'estero lo accoppiamo le cave di Fantiano. Le cave di Fantiano sono una location di livello internazionale che ormai conoscono in tutta Europa. Per noi Fantiano e Grottaglie rispecchiano la tipologia di turismo che la nostra associazione vuole che venga effettuato. Un turismo non di massa, ma un turismo che vada verso degli standard qualitativi che possano far conoscere il territorio ionico per le sue peculiarità più belle, l'enogastronomia, il mare, piuttosto che comunque questi eventi. Io voglio ricordare che Taranto è stata la provincia quest'anno che forse ha avuto gli eventi più importanti a partire dal 1 maggio proseguendo per il Medimex e concludendo per il Cinzella e non Disney. Mi piace anche ricordare qualche altro evento come il Locomotive. L'importante è per il nostro territorio cercare di capire che tipo di direzione deve prendere. Secondo me la rete è quella la direzione giusta. Noi ci collochiamo, siamo lieti di essere collocati unanimemente dalle riviste specializzate, basta ricordare ad esempio Vogue Italia, tra gli eventi imperdibili dell'estate. Quindi Grottaglie perché comunque è un'amministrazione fatta di giovani, un'amministrazione che crede nel turismo, Grottaglie penso che sia in questo momento se non quasi uguale ma a livello sicuramente di altri paesi della Valle d'Itria che fanno questo giovani. Ma si considerare vino e musica, mondi altornianti, giusto per fare alcuni esempi. Sì, è un'amministrazione che rispecchia poi anche il nostro modo di essere. Invece a Taranto l'estate è solitaria, Taranto città. No, guarda, assolutamente. Noi tarantini dobbiamo andare nella provincia. No, questa è la verità. Dobbiamo andare nella provincia, se vogliamo distrarci, per non deprimerci. Assolutamente, dobbiamo fare sistema. A Taranto ci sono grandissime professionalità. Noi lo siamo, siamo dei professionisti ormai in questo settore e non abbiamo niente da imparare da nessuno. E quindi è giusto che le professionalità vengano... La cultura non deve essere, Luigi, uno strumento di scambio politico. La cultura deve essere universale. Quindi noi a Taranto dobbiamo essere bravi a non guardarci in Cagnesco e cercare di portare più in alto il nome della nostra città. È quello che vogliamo fare al di là delle vedute, delle differenze. Quindi il Cinzella, in questo senso, è un evento per tutti. Belli, buoni, cattivi, gialli, neri. Vi aspettiamo tutti quanti al Cinzella. E sostenetelo perché il Cinzella deve crescere al di là di Mimmo, al di là di Michele Riondino, al di là di Gianni, al di là di quelli che lo organizzano. Perché comunque è un evento che abbiamo sempre definito open. Cinzella Festival, 11, 12 e 13 di agosto. La parte cinematografica presso il Castello Aragonese di Taranto, 17, 18, 19 e 20 di agosto. La parte, il momento musicale, presso le cave di Fantiano Grottaglie. Mimmo Battista, uno degli organizzatori. Abbiamo realizzato una serie di interviste. Ora voglio parlare proprio della vostra visione che avete. Perché questo Cinzella Festival non è solo un evento cinematografico, un evento musicale o più eventi cinematografici o più musicali, ma hanno un minimo comune denominatore, hanno una finalità, hanno un obiettivo, hanno una mission che è sottesa rispetto agli eventi puramente artistici. Assolutamente. Ecco, io dico sempre che noi abbiamo, con tutte le persone con cui ci confrontiamo in tutta Italia, abbiamo un approccio culturale ancorché economico. Mi devi consentire, Luigi, e questo te lo fa capire, ecco, sembra uno spazio commerciale, ma in realtà voglio spiegarti. Quali sono i partner che affiancano questa manifestazione? Innanzitutto i partner istituzionali. Abbiamo Apuliaville Commission, il comune di Grottaglie, Grottaglie 2020, Inail e poi abbiamo una serie di partner commerciali che ci danno sostegno. Mi piace ricordarli tutti, li leggo perché non voglio sbagliarne nemmeno uno, ovvero Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe, Ecotarass S.p.A., San Montana, Autoclub, Coop e Aperol Spritz. Poi abbiamo altri sponsor che ci accompagnano come Acquorsini, il Monun Hotel, le cantine di San Marzano e poi dei partner che vestiranno tutto lo staff del Cinzella, come Andriani e Sneakers 76. Allora perché ti ho elencato questa serie di… certo per una finalità ovviamente commerciale, mi piace perché è giusto elencare chi ci dà un sostegno, ma ti spiegano la credibilità di questo progetto. Cioè sponsor o partner di questo livello, di livello anche nazionale, si avvicinano a progetti del genere proprio perché li ritengono credibili. A noi è importante essere credibili, questo tipo di progetto si rivolge su un mercato non solo nazionale ma anche internazionale perché per esempio per il concerto di Franz Ferdinand verranno addirittura delle persone dall'Inghilterra. E quindi è bene che noi tutti capiamo che comunque la cultura porta anche economia. Certo in un territorio di 200.000 persone che è devastato da tutti i problemi che sappiamo, è secondo me non pensabile pensare che appunto il territorio possa vivere esclusivamente di turismo. Ma certamente… Un'altra economia è possibile rispetto agli orrori del mostro dell'acciaio? È benissimo, noi combattiamo queste cose, abbiamo una chiara visione di quello che è il futuro di Taranto. Quindi la cultura è un'economia che si va ad integrare ad altri tipi di economia che può essere l'economia portuale perché mi riguarda da vicino, oppure l'economia anche industriale ma che sia un'economia industriale pulita. Certamente non quella che è… Ecosostenibile. Assolutamente, assolutamente sì perché comunque ecco questa è la vera sfida di tutti noi operatori culturali ma anche operatori industriali, guardare al futuro. La nostra missione deve essere guardare al futuro e rischiare soprattutto e capire che quella che… Io faccio sempre l'esempio di Matera, permettimi di farlo. Allora noi quando eravamo giovani, quando volevamo andare in gita a Matera, diciamo no a Matera perché era brutto, c'era il brutto, i sassi. Loro sono stati capaci di trasformare il brutto in bello. Quindi noi abbiamo questa opportunità, anche noi, di trasformare il brutto in bello. Bisogna crederci, ci vogliono dei professionisti che noi abbiamo a Taranto, però bisogna crederci ovviamente tutti insieme. Noi cerchiamo di fare la nostra parte col Cinzella e pensiamo di riuscirci molto bene. E pensi che il messaggio, la pietra lanciata nello stagno, smuoverà un po' di coscienze finora, come dire, addormentate? No, io penso semplicemente a quello che voglio per il futuro del mio territorio. I coscienze che poi sono coloro i quali hanno poteri decisionali, no? Allora, il Cinzella è un evento che porta a bellezza. Noi siamo per la bellezza, non siamo per la bruttezza. Quindi abbasso la bruttezza e viva la bellezza di questi eventi, che siano il Cinzella o siano altri. Quindi dobbiamo dirigere tutti verso la bellezza. Bellezza non è un eufemismo, una parola lanciata nell'aereo, ma è un modo di vivere, è una concezione di vita. Riviutare il brutto per abbracciare il bello, ma per abbracciare il bello ci vuole coraggio. Noi lo stiamo dimostrando perché un evento del genere non nasce per caso. Richiede sforzi, energie, organizzazioni. Abbiamo uno staff incredibile di ragazzi che lavorano veramente 360 giorni all'anno. Lo fanno anche gratuitamente, come lo facciamo ovviamente anche noi. Però per fare questo tipo di eventi ci vuole ovviamente una grande professionalità, una grande organizzazione. A Taranto non abbiamo veramente niente da insegnare a qualcuno, da imparare da qualcuno. Noi abbiamo un'idea precisa del futuro di Taranto. Il futuro di Taranto per noi è cultura, è appunto quello che ho detto prima, la bellezza. E quindi ripudiamola a tutto ciò che è brutto.